Musica Bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video quest'oggi siamo su Fortnite e appunto come avete letto dal titolo siamo qui per la reazione alla nuova stagione di Fortnite capitolo 2 stagione 3 faremo una reazione al post battaglia e al nuovo aggiornamento non so quando vedrete questo video comunque lasciamo stare andiamo a selezionare battaglia reale ovviamente e vediamo cosa hanno cambiato ok questa è la nuova schermata davvero molto bella e posso intuire che queste qua saranno le nuove skin però guardiamo l'evento guardiamo anzi il trailer è una brutus nello stile spesso che viene devastato acqua man che sarà la tipo la skin di death pool che si sbloccherà con lo studio nel corso dell'asso vuoto questo è la teglia che posso intuire e deve essere la nuova mappa e poi è vero il nuovo pompa perché se è stato il nuovo pompa hanno chiamato il pompa del nonno con questo e questa qui dovrebbe essere la nuova mappa davvero molto molto bella stagione 3 bellissimo davvero davvero bella il mio benvenuto nel mondo delle onde e questa è la tua fortiglia qui puoi sbloccare sfide e comprare il pan battaglia per reclutare questa inaffondabile combricola di masnadieri questo piccolo clandestino è kit crescono così in fretta ho invitato acqua man ha detto sì ho detto puoi metterti una maglietta ha detto no poi c'è jules la super ingegnere con le sue incredibili creazioni esplora la fortiglia e incontra tutta la banda in più dai un'occhiata al cast ombrello con il pass battaglia puoi progettarne uno tutto per te e alla fine della stagione sarà solo tu nel corso dell'avventura ci saranno nuove aree da esplorare nuovi modi per spostarsi e fantastiche sorprese non fartele scappare acquista il pass battaglia e sblocca la tua squadra di masnadieri inizia a progettare il tuo cast ombrello guadagna 1500 v-pack e tanto altro allora che cosa stai aspettando toffati bello come trailer mi ha convinto ok ragazzi ci siamo siamo nella lobby a tema acqua quindi poco da dire bella carina andiamo a vedere il pass battaglia allora non so se è normale sta cosa che si bugga la skin però va bene questa qui è oceania boh non mi sembra granché comunque va bene ci sta vediamo fade leggendaria ok ci sta anche questa qui vediamo questa qua è un emote ok va benissimo questa scia non è niente male però non mi convince molto mi va ovviamente e poi ci danno questo ombrello che è come maya nella scorsa stagione quindi è una cosa personalizzabile poi andiamo avanti c'è questo zaino carino insomma si dai carino questa copertura non mi convince troppo però dai è abbastanza carina la musica non mi interessa ok la schermata non male e poi ci sono i picconi vediamo perché mi sa che questi due possono trasformarsi in uno solo non so se avete capito comunque vediamo gli sti ecco infatti da due si trasforma in uno davvero molto bella sta cosa poi andiamo avanti questo qua lo stendardo non mi interessa cento di zack non mi interessa va bene se ne fai con emote e poi andiamo col primo deltaplano allora vela maestra allora molto insomma normale non è tanto non è tanto bella ma non è neanche bruttissima poi abbiamo il primo potenziamento per l'ombrello poi abbiamo una schermata di caricamento molto bella poi abbiamo questo spray che non ci interessa e poi abbiamo questa copertura qui che è davvero davvero bella davvero molto bella cento vivac e poi abbiamo la prima skin anzi no non è vero abbiamo questa skin e non mi dice niente una skin normalissima e boh non mi convince troppo però si ci può stare poi abbiamo questa emote molto simpatica e ci sta ovviamente poi abbiamo quest'altra emote che non ci interessa poi abbiamo questo zaino che sarebbe tipo per i sub per respirare sott'acqua poi abbiamo la scia d'acqua bella ovviamente tema acqua quindi doveva esserci standard così 100 vivac abbiamo un altro deltaplano possiamo dire quasi uguale a quello di prima un altro spray poi abbiamo oh bella questa schermata davvero molto bella e poi abbiamo questi due bellissimo questo piccone beh madonna bellissimo bellissimo sto piccone questo qua è più bello di tutti per ora abbiamo standard poi abbiamo il vivac e poi abbiamo sta roba qua cos'è non fare i rompi ok non ha senso però va bene ci sta spray poi abbiamo un altro pezzo personalizzabile del dell'ombrello abbiamo questo deltaplano molto bello il deltaplano farfalla possiamo chiamarlo così molto bello poi abbiamo questo standardo qua abbiamo i coltelli da sub vediamo se anche questi qua si trasformano in uno solo no perché mi sa che non hanno gli stili infatti poi abbiamo 100 v-back abbiamo un'altra skin jules ok mi ricorda un po' l'introglicerina della scorsa season si comunque ci sta con l'elmetto di brutus in testa in versione ombre poi abbiamo uno spray poi abbiamo bello il gufo è uno zaino con il gufo cioè sarebbe tipo quello con gli animali davvero molto bello poi abbiamo questa scia colorata bella ci sta poi schermata di caricamento con il gufo bella bella dai questa copertura qui si ci può stare ci può stare davvero poi abbiamo queste questi picconi vediamo infatti si trasformano anche questi qua in uno solo davvero molto bello questa cosa 100 vivac la musica non mi frega niente poi vediamo questo ah bello cos'è vediamo home prenderà il gufo prenderà il volo direttamente dal dorso decorativo ah ok quindi se tu hai il dorso decorativo cioè lo zaino del gufo tu puoi prendere il gufo e ti fa da da deltaplano bello poi abbiamo sempre fade solo un po' modificato con una maschera e mi sa che è anche la skin del che c'è a livello 100 comunque andiamo avanti abbiamo questo standard no scusate questa schermata non ha non so non riesco a capirci molto non ci capisco niente comunque va bene eh le motte 100 vivac vediamo questa ok brutta di piedi non è non è bellissimo ma non è neanche brutta un altro potenziamento per l'ombrello che sarebbe il telone dell'ombrello poi abbiamo un'altra emot spray poi abbiamo questa schermata di caricamento bruttina non mi convince molto 100 vivac e poi questa skin qua bella con miascolo mini sopra davvero molto bella e ha anche lo stile di miascolo ovviamente sia ombra che spettro infatti bellissimo davvero davvero bello poi abbiamo questo deltaplano vediamo eh insomma questo non è tanto bello non mi convince molto emot vediamo questo zaino non male non male vediamo questa bruttina non mi convince molto vivac poi abbiamo questa scia abbastanza carina sembra un meteorite piano forte o piano e forte anzi carina carina più serio standardo poi abbiamo questa scia no questa schermata e poi abbiamo questo piccone picconi e piccone vediamo stili vediamo allora questi qua sono gli stili quando sono due e poi ecco quando è grande il piccone diventa bello a me ragazzi piace di più il piccone così invece che le due asce da tenere in tutte e due le mani un'altra copertura per le armi carina 100 v-back poi abbiamo questo deltaplano che anche questo qua non mi convince molto un'altra schermata di caricamento davvero bella abbiamo anche un altro potenziamento dell'ombrello che è la parte sotto il manico poi abbiamo lo spray ok poi abbiamo questa luna che è lo zaino bella bella davvero standardo poi 100 v-back e poi siona o siona non lo so comunque sì carina ci può stare che diventa cos'è diventato un astronauta cioè dall'acqua all'astronauta ok va bene va bene ci sta se l'ha fatto l'epic games allora ci sarà un motivo allora questo piccone qua questi picconi vediamo come sono allora così così mi convincono comunque sono belli anche così e poi eh belli questo è davvero bello poco da dire poco veramente bello poi un'altra emote e poi vediamo poi abbiamo uno spray e poi 100 v-back ovviamente poi abbiamo questa scia che sarebbe tipo un mantello sì ci può stare dai carino ehm schermata di caricamento davvero bella poi abbiamo cos'è bello una cometa cadente che dovrebbe essere un deltaplano che però ci c'è lo cavalchi tipo non so come spiegare comunque il personaggio deve andarci sopra comunque abbiamo questo queste armi vediamo che è bella carina questa davvero carina poi abbiamo questa che mamma mia bella bellissima questa copertura sigillo rosso davvero bella questa qua mi piace tantissimo 100 v-back poi abbiamo tempestoso e non so perché mi ricorda tanto fantozzi comunque abbiamo possiamo mettere anche la scia possiamo mettere il colore della scia all'ombrello che modificheremo noi ok bello questa come cosa un deltaplano corvo di corvo di spade bello carino bello davvero bello uno standardo poi abbiamo lo zaino vediamo non mi convince molto però si carino dai 100 v-back e poi le skin del livello 100 vediamo belle belle porca miseria queste skin davvero questa skin anzi davvero davvero bella vediamo l'altra mascherato questa qua è fade sono sicuro sono sicuro al 100% perché ha la stessa posa e poi si è lui comunque davvero bella questa qua soprattutto questa qua è la skin più bella del pass secondo me davvero tanta roba tanta roba davvero poi ovviamente se andiamo qua ci sono le sfide subito per Aquaman dove dobbiamo prendere il pass battaglia e completare tutte le sfide di Aquaman le sfide di Aquaman in teoria dovrebbero essere qui non vorrei dire una cavolata però no non lo so comunque ci sono da qualche parte ragazzi direi di andare a fare una partita di prova andiamo a vedere com'è questa nuova mappa e con questa skin bellissima comunque andiamo a fare una partita di prova e andiamo a vedere come come è diventata la mappa perché ragazzi io sto facendo il video alle 2 di pomeriggio perché mi ha finito il la playstation mi ha finito l'aggiornamento alle 2 di pomeriggio quindi sto facendo questo video alle 2 appunto e a parte che sono fresco sono freddo anzi quindi non giocherò molto bene anche perché appunto è la prima volta che accendo fortnite ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a giocare aspettiamo solo di entrare in partita e visiteremo questa mappa perché sono davvero curioso di vedere come l'hanno trasformata allora oh madonna com'è cambiata la mappa questa zona qua questa qua no scusate cos'è questo cos'è oh madonna boh non lo so comunque direi di andare non lo so andiamo qua vediamo come come ci accoglie la mappa per la prima volta allora potremmo anche andare qua sotto però mi sa che questa qua è borgovi slacco ne sono sicuro quindi possiamo esplorarla anche da solo andiamo a esplorare le nuove zone della mappa allora direi di andare a esplorare appunto qua e appena mi carica le texture magari possono venire meglio ok questa qua mi sembra tanto sabbie sudate infatti è sabbie sudate è sabbie sudate ok ok qua intanto mi dice una missione fatta o un obiettivo fatto dove è il pesce eccolo qua e sono atterrato sulla mappa ok io sto girando un po' per sabbie sudate non ho ancora trovato il nuovo pompa oppure ho il nuovo pompa o il fucile da caccia comunque armi nuove e non le ho ancora trovate quindi adesso proveremo a cercare vediamo che cosa succede la vedo una cassa andiamo a prenderla però mi sa che non c'è nessuno qua non c'è davvero nessuno in mi sa a sabbie sudate ok ragazzi oddio cosa ha fatto allora siamo a sabbie sudate appunto e la safe sta per partire e quindi direi di muoverci cos'è questo ah ecco il punto è nuovo ecco prendiamolo vediamo allora quanto fa danni 89 credo in body spero cadenza di tiro dimensione caricatore 3 cavolo quindi sono solo 3 colpi porca miseria vabbè cerchiamo qua e no non ha entrato niente comunque da quello che so in teoria dovrebbero aver messo il bolt action il il cecchino vecchio quello che c'era già tempo fa nel appunto il fortnite ok ragazzi direi di partire ma cos'è quel coso là è uno squalo mamma mia fa impressione da vedere lo squalo vediamo cos'è quella roba cosa sono questi interrogativi non so perché facciamo magari lo squalo vediamo oddio ma ma fa male allora via 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 fuori dall'acqua fuori dall'acqua fuori dall'acqua fuori dall'acqua mamma mia chi se lo aspettava chi se lo aspettava o pochè miseria cosa fa lo squalo qua cosa ci fa qui oddio ragazzi non sto capendo nulla cos'è ragazzi cosa sto decedendo ragazzi sono botte questi qua io sono a prezzo quindi non è che c'è proprio a me nelle mie posizioni però ragazzi cos'è 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 ragazzi oh calma calma oh calma via 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 ma si è più da grifoglio ma come è diventato è un'isoletta vasta via ragazzi via via mai più piocina ok pura miseria c'è ancora lo squalo ragazzi come faccio a muovermi con lo squalo in acqua oh c'è anche c'è anche la safe quindi dovrei dovrei sbrigarmi sono proprio qui cosa si fa lo squalo qua ma ragazzi ma 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 non lo so ma cos'è hanno modificato anche intanto la ehm insomma la scritta che non è più spessa comunque ragazzi a proposito lì prima è apparsa la notifica che samurai mi ha invitato e approfitto di questa cosa per dirvi che ha aperto un canale youtube abbiamo fatto una live l'altro giorno quando c'è stato l'evento di fortnite e vi consiglio di andare a vedere nel suo canale perché farà video soprattutto su fortnite ovviamente magari anche su valorant e roba del genere comunque ehm vi lascio il link del suo canale qua sotto e magari in descrizione e magari potrete andare a vedere dare un'occhiata appunto intanto ragazzi voi lì in alto a sinistra potete vedere il mio ping che sale da 250 fino a 30 ovviamente ha molto senso questa cosa ok ragazzi come avete potuto sentire è cambiata anche la musica del pass battaglia è bella carina un po' musica rock diciamo come le motte di prima comunque qua abbiamo trovato sempre elite armi comuni scudone ok facciamo giro scudone ok la save toglie 5 io ci ho rimasto un attimo quindi mi ha tolto 10 in totale wow so contare vedo qualcuno là 100 ok mi sa che ho un bot ragazzi porca miseria mi sa che il bot sono io l'ho preso una volta gli ho fatto solo un 27 porca miseria lui mi ha preso però non ho materiali come faccio ragazzi non ho materiali non ho materiali non ho materiali sono arrivato terzo eh ragazzi oh il vampa mi tico ah ok hanno rimesso il chuck jack infatti davvero bella come cosa ok ragazzi ci siamo siamo tornati in lobby ho riscattato le motte considerazioni su questa stagione allora davvero molto bella forse l'unica cosa che non mi convince sono i bot ma non sono sicuro se sono bot proprio creati con l'esca oppure bot della tipo come i cose come gli scagnozzi quella cosa non mi piace molto poi un'altra cosa che non mi piace è lo squalo ragazzi perché è lo squalo che salta nella terraferma e poi ci torna subito in acqua non è molto carina come cosa però ragazzi è tema acqua quindi lo squalo dovrebbe esserci per forza non l'ho capita questa cosa dello squalo come funziona però ragazzi imparerò niente tutto il resto bello davvero bello hanno cambiato molte città l'agenzia non credo si chiama più agenzia non mi ricordo come si chiama comunque si è convertita sicuramente nelle ombre ok ragazzi io chiudo il video qui vi ricordo di andare in descrizione e vedere il canale di The Samurai iscrivetevi e ragazzi noi ci vediamo in un prossimo episodio bello ciao